724.000 euro per promuovere l'occupazione di persone svantaggiate. È l'ultimo finanziamento ottenuto dal Piano di Zona S9 nell'ambito delle risorse PON stanziate dalla Regione Campania per progetti relativi all'intesa territoriale ed inclusione attiva. Il progetto finanziato al nostro Piano di Zona, spiega Gianfranca Di Luca, coordinatrice del Piano S9, è denominato Anvendura Infinita e prevede una serie di azioni mirate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate residenti nei 17 comuni dell'ambito S9. Il progetto si compone di tre azioni così articolate. Servizi di supporto alle famiglie, che comprende servizi di educazione volte a sostenere i minori in difficoltà, ed il proprio nucleo familiare. Percorsi di empowerment, ovvero percorsi formativi e di sostegno orientativo. I corsi di formazione previsti sono quelli di accompagnatore turistico, educatore per l'infanzia, operatore agricolo, operatore sociosanitario. Tirocini di inclusione sociale per persone svantaggiate, particolarmente vulnerabili, che risultano disoccupate o inoccupate e che siano in età lavorativa. L'azione prevede anche una quota di finanziamento dedicata esclusivamente alle persone con disabilità. Insomma, un nuovo importante traguardo ha aggiunto Agostino Agostini, consigliere del Comune di Sapri delegato alle politiche sociali, raggiunto dall'ufficio di Piano che nell'ultimo anno è riuscito a portare l'Uefar sociale alla ribalta, con l'ottenimento di numerosi finanziamenti e l'organizzazione di una serie di servizi per le fasce deboli. Grazie a tutti.